Quasi al termine di una delle giornate più noiose della storia parlamentare a Palazzo Madama alle ore 22.05 prende la parola il senatore Matteo Salvini, segretario della Lega, per spiegare le ragioni che hanno portato il partito di Via Bellerio a votare la fiducia e a sostenere, convintamente, il governo Draghi. Ragioni che, per il leghista duro e puro, non sono certamente i tre ministeri chiave ottenuti nella fase di contrattazione politica. Lo ricordiamo. Il Ministero dello Sviluppo a Giancarlo Giorgetti. Quello del Turismo a Massimo Gravaglia e il Ministero della Disabilità a Erika Stefano. Ragioni di cuore e di sovranismo perché, come dice Matteo, Abbiamo messo il bene dell'Italia prima dell'interesse del partito. La salute e il lavoro prima degli interessi o delle beghe interne. Abbiamo un valore comune. La libertà educativa. Di cura. Di pensiero. Poco meno di dieci minuti di intervento che, a differenza dei colleghi senatori degli altri partiti, è stato spesso interrotto da applausi da stadio dei suoi. Un intervento politico, non privo di stoccate al buonismo della sinistra, ad esempio sull'ambientalismo, che certamente ha riportato Mario Draghi sulla terra di un dibattito parlamentare che in Italia, specie in questa legislatura, non è mai stato particolarmente elevato. Tra i punti centrali dell'intervento di Salvini via il richiamo al professor Draghi all'impegno preso per un'Europa vicina alle imprese e alle famiglie. Un'Europa che Salvini non attacca più con i toni sovranisti di un tempo ma che, forte della fiducia nel nuovo esecutivo, si sente finalmente di poter affrontare. Mai come ora legittimato dalla figura di Draghi. Aviso aperto. La sovranità appartiene al popolo, ha ricordato Salvini. Utilizzando, ironia della sorte, una frase usata dalla ex compagna di coalizione, Giorgia Meloni, che quella sovranità l'avrebbe fatta misurare nelle urne elettorali, consentendo ai cittadini di scegliere i propri governanti.